ARTITO 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 Guarda le sue vende Adesso un attimo che spammo il link Ciao Ciao Wey Bomber, com'è? Ti è a posto? Sei carico? Sei pronto? Aspetta che non vedo un cazzo Non vedo dove cazzo è la mia live Aspetta un attimo Vale, ti aggiungo perchè io e te siamo contro nella terza giornata Quindi ti inizio ad aggiungere Allora Che cazzo hai giù? Aspetta Ok Inviiamo il nostro cazzo Un cazzo di link Poi quando ci sei possiamo partire Allora io per sicurezza Faccio gli screen col tasto share Tu Vale mi raccomando fatti gli screen tuoi Col tasto share prolungato Piace Share e basta Ti rendono premuto E ti fa la foto Esatto Ok 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 Perfetto Si si sono in live Spettiamo anche lui Spettiamo anche lui Tanto 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 sono Tanto sono Tanto Quelle pale Quelle pale Quelle pale No Ogni giro preso una pala Si perchè non sono prevedibili Si è vero Si è vero Si fa lo stesso tempo Troppo velocemente il diametro piccolo Si esatto esatto Però alla fine ha fatto tutto il suo giro Però Le ultime due Poi girano una pala All'altra Un 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 Ok, buon, andiamo Vale, tu hai la con Twitch? Ah, tu non streami Ok Ok, perfetto Vai tranquillo Vabbè, l'importante è che ti ricordi di fare gli screen, quello è l'importante Allora, io direi di toglierci subito il dente, va Partiamo con l'immersione Vale, non ti sentono nel mio Twitch, per cui prova ad andare in postazioni party Sì, in postazioni party con sentiato voce Oddio Ok, ragazzi Ora non ti possi sentire i miei schismi Lo sentite? Arriva un po' in ritardo Eh, arriva in ritardo nella mia diretta Quando ci sei me lo dici che attacco Sì, sì, ci sono, ci sono Vai, andate Togliamoci subito il dente Allora, Valerio si sente però molto, molto basso Sì, è basso, fatto un po' per tutti Sì, è basso Sì, sì Sì, sì Ti manderò una cartolina dal traguardo Nacchi un po', eh, vale Eh, un po' di più, sì Sì, 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 sì , sì, sì Sì, sì, sì Sì! ecco Oh raga, io vi saluto, buonanotte, ciao bello, ciao ciao Ben trovati davvero, buonasera, buonasera L'altra qual'è? Ah parco per storico, parco parco Ale, ehi, ti guardo Eh, tanto non è che ti stai vedendo il board record Devi allungare le derapate C'hai l'ansia, c'hai, allunga le derapate Ma? Eh, di chi è il party? È mio, è mio il party Ah, può entrare, può entrare, turbo? Ah, dopo l'ho invito, è privato il party Sì, ok, te l'ho suggerito Appena finito vai Tupi oh raga non sto tagliato per questo gioco inutile non sto tagliato per questo gioco inutile D'alto! Sì! Porto dio, madonna mia cosa lasciarla! Ma si blocca sta troia, minchia! Sta mestruata bastarda! A voi mi blocca il canale? Ti manderà una cartolina dal traguardo! Sì! 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 Ho visto volare per aria prima! E' signora me prima! Sì sì! Sì sì! E guarda qua! Il ragazzo figo è... Ma mi fanno guardare! Ti abiti slovenia come Thomas e un conto! Sì! 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 Non si può! Eh! Sì! 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 Ma... La diretta mi sta salvando vero? Io ho scherzo quadrato poco fa! Sì! Ho preso quadrato? Sì! Ok! Ho preso quadrato! Cioè, no! La diretta! Gli ultimi 15 minuti! Vabbè! No! 60 minuti! Ah! 60! Perfetto! Io 60 minuti! Tanto lo rifaccio dopo! A fine gara lo schiaccio così per sicurezza! 60 minuti! No! Io 60! Io 60! No! La prima gara di campionato non sono riuscito a fare... a fare la mia clip video! Sì! Mi sono... Se le pisse con le armi ora! Sì! 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 Adesso... Ok! Non erano... Pista turbo! Partiamo da turbo, dai! Anzi, prima da passare... Pista turbo! Eh, pacco! Quale? Poi... Beh, sei da ancora un inizio, invita turbo! Vabbè, quello che ho fatto! Ah! Ah, ok! Grazie! Grazie! Beh, partiamoci subito da questa qua, ma la tagliamo subito il dente! Ciao turbino! Salve! 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 Perché Pacchi ha detto... Ditemi la combo preferita e la vostra pista preferita e ci sarà un regalo per voi! Dov'è Alessandro? Io voglio Alessandro! Alessandro chi? Giordano? Sì! Beh, non c'è, ha detto che non può fare parte! Che cazzo! Dai! 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 Nooo! Non sono partito! Che cazzo! Ma! Ahahahahahahah! Ahahahahah! Ma non ci credo! Oh, vabbè! Non ne gira una! Non ne gira una! Non ne gira... Oh, non deve girare, non deve girare, raga! Inutile! Ma 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 ma! C'è, veramente, c'è Ma 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 ma... Ma porca tro... Voi lo sapete che qualcuno è morto? Dio! Sempre lui eh! eeeh ehm che non si fa mai il cazzisuo quello che adesso guarda 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 che lascia le boccette poi si lascia il ragazzera vai Forca puttana Io voglio fare vuoi risultami di bambini Vai Cazzo Michalaghi non riesco a beccarti Cazzo Non so dove cazzo sei perchè ti sposti In un secondo No 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 Si confonde What Che Va 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 E' preso la mia boccetta perché di è cattivo Oh 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 Ok Portate fuori la spazzatura ragazze Chi è che sto reggio raga Scream Oddio mio Senti film da qua e senti Mi fai morire O è Mari O è Beppe O è Vale Io non l'ho sentito Io sono stato mutato Intanto Vale è casciato Io non l'ho sentito Perché stavo bevendo Quindi non ho sentito niente Però avrei voluto tanto sentirla Ma cosa Adesso La mia Grande Grande turbo Abbiamo colpevole Vede detto che non si può scorreggiare Che hanno voluto Ma infatti Vai vai Tu vuoi Tu fai il cazzo che vuole Il mio padre Non credo Non credo Forte Si turbotretti Si turbotretti Si turbotretti Non è male che mi fate ridere va Mi fate ridere va Credo che oggi sarà l'ultima volta Che vedete il mio canale Ragazzo a morire lì Con tutte le bestie messe tirando Mi cancellano il canale Twitch Ma è già una misera No diciamo Fortunatamente Twitch Determinate persone Le accetta Ah meno male Meno male Ma però determinate Non tutto Mannaggia quella grandissima droga Bravo Questa pensa che lo accetta Fa bello e buono Si spegne la direzione Non c'è altro partito eh Ragazzo Buona la partenza almeno Eccolo Sono veramente VIVA A presto Un'altra partenza Eccolo Un'altra partenza 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 madonna che dio alla fine non è una scorreggia ma è la cocco giardo vero? no 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 aspetti un attimo che ne propongo pure un altro vabbè tanto sono qua ancora una gara tranquillo ah già avete venito? eh sì direi anche per fortuna si è venuto a me a 0 punti vabbè a cagare per vincere tu devi morire esattamente appunto no per vincere per vincere tu devi morire cazzo esattamente quello è proprio quello che farò ahahahahah mi chiamate quanti iscritti poi nel canale la morte di turbo in diretta ah mannaggia il quello connello bastardi greci successivo ahahahahah luce draco vero nooo Oh! 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 Prova, figa! Sì! Ho visto però un combattimento e mi raccennate per gavannia! Si! Una p***a! Oh, raga, perdonate, mi faccio farvi un tempo che andrò la mia live, non hai capa di niente! Perché non ci sono riusciti ad essere una macchina? Cioè poi non è che... non è che dici n***a ti arrivano le armi buone No, manco le armi buone arrivano, io ho fatto 5 ore senza armi praticamente Sì? Cioè è vergognoso, è vergognoso Non sono bombette, o bombette o... le TNP Cioè ti rendi conto? Cioè che merda Ah, Ale Ale dai Ale Oh, Ale oh Digli che tu non vuoi, non vuoi le bombette ma vuoi i cannoni Minchia, vorrei altro, non i cannoni in questo momento Comunque ragazzi... Con questo torneo appendo il gestico al chiodo sappiatelo No The last one! Oh yeah ragazzi, era ora Parco Coco Porco Coco Ok, cari amici ascoltatori, quest'oggi abbiamo Parco Coco pronti per questo bellissimo match tra Alexis e Vale 11-91 Un match incredibile dove vedremo sicuramente l'editorio di Vale Ma chi se ne frega perché noi siamo qua pronti per questo mega match, mega party, mega festa dove tutti quanti noi berremo birra e ci ubichiamo fino alla mattina Raga, ho le ascelle pezzate Io il sottopallo ho pezzato Ma? Vorrei leccarlo Oh yes Aspetta 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 Se volete rilascio soli eh No grazie Con questo sento la figa Mariano Ma io lo abbondo Oh cazzo Ma quanto lag ha letto Quanto lag ha letto Prima è sempre sconnetto Ah raga in realtà il lag Dell'arma segnale per lui Cattivo Hai usato la maglia terrella per farmi perdere Ehi, Cristo, maledetto, signore. Nooo, sei un infame! Sì! Parca peste però, dai, minchia! Ma prendi una cazzo di scatola! Una scatola devi prendere, troia di merda! Una scatola devi prendere, no! Non la prendi perché sei una puttana eppure è successa! Ma dai, una tassa l'ha presa! Eh, eh, eh! Un orbe, un orologio, no, mi chiedo, va a merda, mi chiedo! Ma siete in due, eh, due l'arrore, insomma, sveglio, un orologio! Ma no, ci passi in mezzo! E tante volte... Sì, sono tutte ceste, fra, per me, dai! Lui, c'è la bella, rimane solamente mare per me! Fuore! È così che rende usi offerto! Eh, raga, ma mio cuore farà male, non dovrà fare! Eh! E i re del nostro lo sa qui! Sei una ragazzaccia! Sei una ragazzaccia! Sei una ragazzaccia! Cosa vuoi fare? Oh, raga! Sei su sei perse! Ma veramente, viva! Ma con onore! No, no, basta, Ale! Non avevo chiuso a fare questa fissa di merda! Per me questa fissa può morire nel dimenticatoio del cazzo! Dimenticatoio di scazzo! Non l'ho finita! Ma? Portate fuori la spazzatura, ragazze! Dio fignorato del cielo! No! Perché la chifrenti piange? Bra, che è successo? Boh, vale, è stato un piacere, mai più! Sto scherzando, eh! Sto scherzando! Ci possiamo mezz'oretto! Ci possiamo mezz'oretto! Ci possiamo mezz'oretto! Sì! Durato meno dell'altra volta! L'altra volta con Fortex 44 minuti, con te 41! E boh, raga! È finita qua! Con grande dispiacere!